Ciao ragazzi, un crimine al giorno 10 marzo, entriamo nell'ambiente del fanatismo antiabortista come avete visto dalla copertina della puntata di oggi, io sono il Teo Crack Apart e vi porto all'interno di un semplice quanto terrificante crimine avvenuto andiamo subitissimo a vedere la scheda di oggi, il 10 marzo del 1993, la mattina fra le 8 e le 10, orario non precisato da quelle che sono le informazioni pervenute in relazione a questo omicidio, un omicidio brutale, un omicidio assolutamente privo di alcuna giustificazione ammesso che ne esista uno, il medico David Gunn, 47 anni, ginecologo, fondatore di una famosa clinica abortistica a Pensacola in Florida viene ucciso a sangue freddo con sei colpi d'arma da fuoco, una P38, all'interno sostanzialmente di una manifestazione antiabortista organizzata dall'organizzazione Rescue America, un'organizzazione ovviamente di un fanatismo religioso e di un fanatismo filosofico incredibile per i tempi correnti e viene ucciso appunto da Michael Frederick Griffin, 31 anni, operaio tessile, un cattolico fanatico, un simpatizzante dell'organizzazione Rescue America, come vedete ovviamente il movente è semplicemente il fanatismo antiabortista, non riuscirai a uccidere più dei piccoli bambini che già hanno un'anima, non riuscirai a uccidere più degli esseri viventi che stanno venendo al mondo e quindi vogliamo in qualche maniera confermare, dice questo Michael Griffin implicitamente, che le donne non hanno il diritto di scegliere sul proprio corpo, che la scienza medica, quella vera, non possa aiutare le donne a scegliere sul proprio corpo, indipendentemente da tutto e soprattutto fuorviati da questa posizione religiosa, fanatica, incredibile, viene condannato all'ergastolo ma quella mattina davanti alla sua clinica, pensa Cola, si accorgerà di essere raggiunto prima da un colpo al petto, poi da un colpo al braccio e infine da un altro colpo al torso che lo finiranno e mentre il suo corpo si spezza fra il dolore più inaudito, quel dottore, quel medico al servizio delle donne, al servizio della libertà di scelta cadrà su quel terreno riempiendolo di sangue per il fanatismo religioso, non c'è molto da dire di più, il titolo la dice tutta, il caso è chiuso per il 10 marzo, un caso terrificante che speriamo non si replichi in futuro, soprattutto per argomenti di questo genere. Il Teo QHK vi saluta per il 10 marzo, un crimine al giorno e come al solito ci vediamo domani con la prossima piccola pillola di crimine meno conosciuta del solito ma sicuramente determinante. A domani. Grazie a tutti.